No, vabbè, ieri ci siamo visti in diretta così per fare delle prove tecniche, chi ha avuto la fortuna, sfortuna di avere la campanellina attiva si è accorto che eravamo in diretta, e adesso è passata una discreta serata, una serata divertente, siamo stati più di un'ora insieme, e quindi spero che se ne rifacciano di queste serate perché effettivamente mi è piaciuta, vediamo anche di organizzarle un po' meglio, perché al di là del piacere che noi abbiamo avuto a stare in tua compagnia, insomma, si può fare qualcosa un po' più di organizzato effettivamente. Ieri eravamo degli scarpati di casa, e chi ha partecipato ha detto, ha espresso la propria opinione, il proprio pensiero su come potrebbero essere sfruttate queste live. Se ti interessa partecipare alla prossima, magari attiva la campanellina, ma in modo che squidmi così vieni avvisato, se facciamo un'altra diletta così, da pazzi. Comunque è carino, dai, carino, sono divertito, stavo bene. Ciao!